Sorellina, sono Armando, sono in ritardo. Pensi tu ai nani. Li fai cenare e li metti a letto non oltre le dieci, eh? Se non puoi accompagnarlo, papà si prende un taxi e via. Vogliono girare una scena con 3.000 comparse e i soliti quattro soldi. Madre santissima. Papi, che ci fai qui? Mi trasferisco da te, Rosa. Come? Cambio di vita, cambio di vicini, sganci la bomba nucleare. Esatto, un cambiamento totale. Quando cavolo arrivi? Trovati un'altra persona. Rosa! Rosa? Dov'è Rosa? Ma dov'è finita? Non lo so. Per iniziare la mia nuova vita voglio fare una cosa speciale. Voglio sposarmi con me, Laura. Con te, hai detto? Senza alcun preavviso. Cioè, Rosa si sposa? Ti sposi o è una festeria? Si sposerà con Rafa, non credo che abbia la fila. Prometto di rispettarmi. Come hai fatto con gli invitati all'orchestra? Non mi serve niente di tutto questo. Voglio che sia un matrimonio intimo. Domani, russita, si sposa in comune. Ci possiamo venire anche noi in comune? Certo che sì, siete tutte invitate. E avrai i fuochi d'artificio, nemmeno a Las Vegas. Ve l'ho ripetuta anche in cinese la parola intimo. Ma come ti è saltata in mente di invitare tutti i parenti di Pamplona? La zia concita. Ma non era morta. Ve lo fate questo addio al nobilato? Il vantaggio di sposarti con te è che puoi mollarti quando ti pare. E mi sono detta, ormai ho quasi 45 anni. Quando potrò pensare a me? Ha divorziato dal suo cervello. Se oggi non ti fai quella promessa, dovrai dirti addio per sempre. E dov'è lo sposo?